Buonasera ai nostri telespettatori di Cilento Channel, bentrovati, questo è il primo talk show televisivo del Castellabate Film Festival, infatti siamo ospiti di questo meraviglioso festival che ha preso il via proprio ieri sera con la serata di presentazione della rassegna che come sapete dal 19 al 24 di luglio si terrà qui nello splendido scenario del Castello dell'Abbate di Castellabate. Saluto subito i nostri ospiti in questo primo talk show dedicato alle associazioni di Castellabate e non solo che si occupano di varie tematiche. Allora presento subito i miei ospiti con Gianfranco Di Luccia, Associazione Pescatori di Castellabate, a seguire Danilo Palmieri della Cilento Trail e poi c'è Francesco Adamo, Archeo Nautilus. Avremo con noi a breve il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni, Tommaso Pellegrino che sta arrivando, avremo gli ospiti della polisportiva Santa Maria di Castellabate appunto, avremo ancora altri ospiti ma ve li presenteremo non appena raggiungono insomma la nostra scena televisiva. Anzi saluto Antonio Vuolo che è appena arrivato appunto della polisportiva Santa Maria in rappresentanza a cui chiedo di accomodarsi magari in platea nel frattempo. Saluto Raffaele Pio Marrone che è il mio collaboratore in queste conferenze stampa che presenteremo ogni giorno qui al Castellabate Film Festival e direi che possiamo cominciare subito con la tematica ovvero l'idea del festival è quella di dare visibilità a queste associazioni che davvero fanno tantissimo per il territorio, per la promozione, una serie di attività che donano prestigio al territorio stesso e quindi in particolare a Castellabate. Allora cominciamo subito a parlare con l'associazione pescatori di Castellabate dunque con Gianfranco Di Luccia. Presentiamo brevemente le vostre associazioni così le faremo conoscere al nostro pubblico non solo locale ma anche internazionale perché Castellabate è anche international. Non so se insomma avete un po' seguito la rassegna, ci saranno ospiti internazionali. Un ospite già è stato presente ieri qui da noi dal Canada quindi è vero parleremo soltanto italiano però insomma impareranno anche la nostra lingua sicuramente oppure c'è il Google traduttore insomma riusciranno comunque a capirlo. Gianfranco veniamo subito a noi, passiamo il microfono cortesemente Francesco a Gianfranco, lo sanifichiamo così. Perdonateci ma insomma questo incontro abbastanza informale in famiglia è giusto per essere molto sciolti nella presentazione e nell'amicizia. Allora che cos'è l'associazione pescatori di Castellabate? Brevemente così diamo spazio un po' a tutti per... Intanto buonasera a tutti. L'associazione pescatori nasce per aggruppare alcuni pescatori della piccola pesca che operano nell'ambito dell'area marina protetta perché appunto noi abbiamo questa realtà dell'area marina protetta e ci siamo riuniti anche se precedentemente già c'era questa situazione però era un attimino più allargata. Adesso l'abbiamo non ristretta però coinvolto tutti i pescatori che appunto operano in questo in questo in quest'area marina protetta. Il nostro obiettivo qual è? Di valorizzare il più possibile il territorio con... facendo conoscere il nostro mondo, facendo conoscere le nostre attività. Praticando pescaturismo ci sono delle barche che appunto hanno iniziato questo nuovo percorso innovativo perché in altre zone dell'Italia la pescaturismo è molto frequentata qui da noi tendendo un po' a partire però noi crediamo in questo progetto e cerchiamo di portarlo avanti il più possibile. Con il nostro impegno, con il nostro lavoro cerchiamo appunto di far conoscere tutti i piccoli angoli marini che comprendono il nostro territorio. Molto bene, presentazione eccellente. Danilo Palmieri sempre sanificazione con... sulla spugna per favore Danilo. Ok. È tutto così, è pratico ragazzi, è il festival, bisogna essere così. Allora, io mi presento, sono Danilo Palmieri, presidente dell'associazione Cilento del Rail Track nonché guida a medaglia escursionistica che lavoro nel Cilento, in tutto il parco nazionale del Cilento. Con l'associazione ci occupiamo in modo prevalente di manutenzione e pulizia dei numerosi sentieri che ricadono diciamo un po' in tutto il Cilento però in modo particolare nel comune di Castellabate. infatti abbiamo, diciamo, ci dedichiamo molto alla pulizia, alla sistemazione dei sentieri che ricadono nel promontorio del Monte Tresino sul sentiero di San Costabile che sale da Santa Maria e arriva su a Castellabate e ultimamente ci stiamo dedicando un pochino anche a Montelicosa perché diciamo che Castellabate ricade proprio al centro tra Tresino a destra verso Agropoli e Montelicosa a sinistra andando verso Monte Corice e poi scendendo verso giù nel Cilento. Invece, proprio prettamente come lavoro, mi occupo di escursionismo nel Cilento accompagnando numerosi gruppi sia su escursioni giornaliere e sia su trekking di più giorni dormendo in Denda oppure facendo esperienze anche in notturna. In più do un paio d'anni a questa parte, sto collaborando con Giovanni Pisciottano del circolo nautico Punto Tresino che vi saluta, oggi purtroppo sta lavorando e non può venire con cui ultimamente abbiamo stretto un po' di collaborazione e stiamo iniziando a fare delle attività legate al trekking e alle canoe. Infatti proprio un paio di settimane fa abbiamo fatto un evento che si chiamava, in verità ne abbiamo fatti due, la prima era aspettando la campana di San Giovanni praticamente ricostruendo la storia della campana di San Giovanni del Monte Tresino. Invece dopo domani ne abbiamo un'altra che è, aspettando la paranza, praticamente con le canoe andremo incontro a un peschereccio, prenderemo del pesce per poi consumarlo direttamente sulla spiaggia a zona lago. A Castellabate qui al festival non porterete nulla? Eh, ci stiamo organizzando per i sentieri San Costabile, lo portiamo a spalla. Grazie Danilo, complimenti. Allora Francesco Adamo, Archeonautilus, bravo Francesco, i miei ospiti vedete si sono attrezzati, purtroppo le hostess ci sono solo nelle serate di presentazione e nelle serate di gala e quindi nei talk show per quest'anno va bene così, ma magari l'anno prossimo cresceremo e avremo anche le ragazze che ci seguiranno sui talk show. Francesco, Archeonautilus, che cos'è? Perché anche per me, lo devo dire, che conosco da un bel po' di tempo il Cilento e seguo Castellabate, per me è una grande novità ed è assolutamente interessantissimo. Buonasera a tutti, sono appunto Francesco Adamo, sono un archeologo subacqueo, e praticamente mi occupo di questo territorio da oramai più di dieci anni. Studio, mi documento, conduco ricerche insieme con l'università sia di Napoli sia di Salerno. A seguito di questi miei studi e di queste mie collaborazioni mi sono reso conto che Castellabate, soprattutto la baia di Castellabate, quindi il lato dei fondali prospisenti proprio in questo territorio è ricco di evidenze, di tracce archeologiche e storiche che io, proprio in prima persona, non mi aspettavo di trovarne talmente tante e che raccontano una storia che va dalla prestoria praticamente fino ai giorni nostri, quindi una storia millenaria. E questo mi ha praticamente indotto a creare proprio un'associazione archeologico-culturale proprio per far rivalutare questo grande patrimonio che ha Castellabate e che purtroppo si sta, diciamo, dimenticando, non perdendo. Non voglio usare la parola drastica perché comunque c'è sempre la possibilità di, diciamo, recuperarlo. e una, diciamo, una grande possibilità che abbiamo avuto noi dell'Arconautilus ce l'hanno proprio, si è creata proprio con l'associazione dei pescatori di Castellabate che praticamente c'è stato un protocollo d'intesa in cui praticamente si illustra la loro sede che contiene molti reperti archeologici subacue come anfore, ancore, pure fossili di cetacei per illustrare la storia del territorio sia a livello storico-archeologico sia a livello naturalistico oltre a quello delle arti marinare, in quanto all'interno dell'antiquarium sono contenute molte, diciamo, modellini di imbarcazioni. L'ultimo pezzo entrato all'interno dell'antiquarium è stato un modellino di tonnara che appunto il Presidente di Luzia si ha, diciamo, dato per metterlo, per illustrarlo e per farlo conoscere al, diciamo, ai visitatori. Molto bene. Allora, in platea c'è Antonio Vuolo, chiedo ad Antonio se cortesemente recupera il nostro spray disinfettante per il microfono perché c'è il collega anche Raffaele Pio Marrone, insomma, che è lì pronto a fare delle domande. Accomodati pure magari... Ah, c'era già il microfono, Antonio, perdonami. Era quello di Raffaele. Ok, lascialo. Portati lo spray, così usi quello, lo igienizzi e poi dopo così... Insomma, c'è questo passaggio carino, insomma, per seguire le norme anti-Covid. Eccolo là. Bene. Allora, Antonio Vuolo, non solo è... Partiamo dal grande amico di Gianni Petrizzo perché siamo partiti insieme dieci anni fa. Poi collega, giornalista, lui molto più bravo di me, lo devo dire questo. No, perché lui si occupa proprio di giornalismo, soprattutto giornalismo sportivo. Io faccio mille cose, infatti qui faccio il direttore del Film Festival. E poi è la voce, l'ha detto stampa, della Polisportiva Santa Maria che la rappresenta questa sera. E allora, parliamo della Polisportiva Santa Maria, c'è anche la telecamera su di te. Io però magari mi alzo così non do, cerco di non dare né le spalle a voi e né le spalle alla platina. Allora, vieni sul palco, mi dispiace, anzi no, facciamo una cosa. Benedetta Petrizzo, che è all'accoglienza e dovrebbe essere mia figlia, dovrebbe avere uno sgabbello. Lo portiamo sul palco così Antonio, insomma, già è alto. Poi se deve rimanere all'impiedi, insomma, diventa una cosa... Mi vuoi far abbassare un pochino. Che hai, la mascherina della Polisportiva Santa Maria? Sì, sì. Dai, comincia poi, magari arriva lo sgabbello. Ah, ecco, basta arrivare. Eccola là, è veloce, è tempestiva, dai. Non puoi lamentarti. Non mi lamento, devo dire che... È una valida collaborazione. Sì, devo dire che da ieri che lavora sul festival è una grande sorpresa per me. E infatti mi fa piacere molto, insomma, di questa scoperta. Allora... Le nuove leve criscono. Però forse se ti metti tra Danilo Palmieri e Francesco... Andiamo ancora. Eh, perché poi questo è un difetto televisivo che ho nel dirigere anche la regia, anche se conduco. Allora, Polisportiva... Grazie innanzitutto della presentazione. Saluto anche altri collaboratori della Polisportiva qui presenti. Che dire, è un'altra piacevole realtà del nostro territorio. Una delle realtà, tra l'altro, più antiche della campagna. Nel 2022, quindi tra non molti mesi, compiremo 90 anni. Quindi, insomma, tieniti pronto e tenetevi pronti perché ovviamente 90 anni vanno celebrati in un certo modo. Abbiamo fatto anche il vaccino perché siamo, come dire, nella fascia a rischio. Quindi, insomma... Tanti tamponi pure, Antonio, no? Assolutamente, assolutamente. Protocollo davvero rigidissimo. Tra l'altro, diciamo paradossalmente, siamo stati colpiti anche noi, ma alla fine del campionato. Quasi, insomma, una beffa. Perché dopo un'annata intera attraversando varie regioni d'Italia, tra zone gialle, rosse e arancioni, come dire, siamo stati bravi e anche fortunati. Però siamo stati anche bravi, dobbiamo dire la verità. Però poi, insomma, alla fine del campionato lo abbiamo imparato e la Covid non guarda in faccia a nessuno e quando magari meno te lo aspetti può colpire. Però fortunatamente ne siamo usciti e ci apprestiamo a vivere questa seconda stagione di Serie D. Quest'anno era il primo anno, quindi è stata una novità, come dire, per tutti noi. Ma credo che l'abbiamo interpretata molto bene, raggiungendo l'obiettivo prefissato ad inizio stagione e confrontandoci con realtà che, insomma, voglio dire, fino a qualche anno fa credo che qualsiasi cittadino di Castellabate magari non l'avrebbe neanche immaginato. Siamo andati a giocare alla San Filippo di Messina contro il... Magari dopo facciamo qualche domanda pure a Gianfranco perché, voglio dire, ha qualche capello in bianco più di me e sicuramente ricorderà anche la polisportiva degli anni della... Sì, ho la fortuna di giocare. Eh, di giocare anche, quindi, insomma... Perciò... Eh, quindi... Prendi il microfono, Gianfranco. Usa pure lo spray per disinfettare, ecco, così. Quindi, come dicevo, insomma, voglio dire, credo che chi più di lui possa testimoniare cosa rappresenta oggi vedere la squadra del proprio paese in un campionato così importante, per di più, insomma, avendoci anche anche giocato. Eh, ma dove stavi in porta, scommetto? No, 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 no. Alla sinistra scommetto. Ah, la sinistra! Proprio una punta eccezionale, no? Allora, non guardarmi adesso perché sono irriconoscibile. Ma all'epoca quando giocavo ero velocissimo. Non lo dico io, lo dicono gli altri. Questo mi fa onore e piacere. Tornando, allacciandomi al discorso dell'amico, è un onore, è un onore ed era veramente impensabile da tutti noi, da tutti noi cittadini di Castellabate, potersi pavoneggiare, tra virgolette, calcisticamente ad arrivare a un traguardo così ambito. Scusami. Siamo sempre stati a livello di prima categoria, per qualche anno addirittura la promozione, però già era un traguardo, diciamo, abbastanza sostanzioso riuscire ad approdare alla promozione. Ripeto. E infatti, scusami, ne approfitto proprio per ringraziare di questo il presidente Tavassi che vi ha dato questa grande possibilità. Assolutamente, assolutamente. Ha dato una svolta radicale e ha portato la polisportiva Santa Maria Calcio ad altissimi livelli e secondo me non dovremmo mai smetterlo di ringraziare, ma non solo lui, tutti quanti, perché tutti quanti fanno la propria parte, tutti quanti hanno fatto sì che la società appunto crescesse fino a raggiungere questi livelli impensati e immaginabili fino a qualche anno fa. Ed è una società, devo dire la verità, anche se nel mio piccolo, insomma, non è che mi occupo di sport, però sento poi le voci in giro, è una società organizzativamente parlando ad altissimi livelli e avanti rispetto a tante società sportive del Cilento. Guarda, paradossalmente ti posso dire, sembra una cosa strana, il calciatore rappresenta la parte meno importante della società, perché i calciatori, si sa, insomma, specialmente oggi vanno e vengono, non esistono tra l'altro neanche più le bandiere di un tempo, però tu al calciatore devi metterli in condizione di poter dare il massimo, quindi dal magazziniere, dall'addetto alla logistica, dal segretario che si occupa delle carte, dal collaboratore che si occupa la mattina alle sette, e lo abbiamo qui presente sabatino, prima di scendere in campo, di passare lì con il trattorino per sistemare il prato e innaffiarlo. Qualche volta mi sono beccato pure io un po' di acqua addosso, perché lui poi, ovviamente, insomma, quando fa queste operazioni, non guarda in faccia a nessuno, dovete sapere. Lui apre, insomma, la manopolina e l'acqua parte, quindi chi ci sta sotto ci sta, e chi non c'è non c'è. Se ti capita di stare lì, insomma, sono guai, però al di là della battuta, davvero ci sono tante piccole persone che, messi al posto giusto, contribuiscono poi a rendere grande una società. Poi è normale che c'è l'attaccante che va in campo e deve fare il golo, perché altrimenti la partita non la vinci, però, insomma, c'è un'organizzazione che, come dicevi tu, mi fa piacere sottolineare che va in questa direzione. Perfetto. Allora, come avete sentito dalla voce dei nostri ospiti, abbiamo l'Associazione Pescatori che fa una serie di attività, quindi interessanti anche laboratori, adesso ne parleremo. C'è l'escursionismo con Danilo Palmieri, quindi attività escursionistiche. Abbiamo anche le escursioni, no, sott'acqua, quindi il paesaggio marino. Con Francesco avremo la possibilità di capire, insomma, le attività appunto da svolgere in questo territorio, quante sono e come sono interessanti. Poi c'è la polisportiva Santa Maria, lo sport di eccellenza del territorio. Davvero questa sera un contenitore, ecco, di eccellenze che ci permetterà di conoscere un po' quelle che sono le realtà. E allora, col secondo giro, io volevo chiedere appunto a Gianfranco, le attività nello specifico, i laboratori che fate e come fare in modo di conoscerle da parte di chi volesse magari approfittarne per rivolgersi a voi e fare le attività, appunto. Anche quella della pesca sportiva, mi sembra, mi dicevi prima. Pesca turismo. Scusami, pesca turismo che è un'altra cosa, naturalmente. Vai. Non siamo partiti quest'anno. Già sono tre o quattro anni che abbiamo entrato in un percorso di dimostrare le nostre arti marinare. Colgo l'occasione per ringraziare la regista di tutto quanto, l'organizzatrice. Ecco lei che ci guida e ci programma. Assunta Niglio. Salutiamo Assunta, buonasera Assunta. Grande amica mia anche Assunta, la conosco da tantissimo tempo. E poi grande organizzatrice, ragazza simpaticissima. Assolutamente, è unica, è unica, è unica. Comunque abbiamo fatto il percorso con tutte le scuole del comune di Castellabate, partendo dagli asili fino ad arrivare alle scuole medie e poi ci siamo allargati pure ai comuni limitrofi. Io e alcuni miei collaboratori, colleghi, portavamo alcuni attrezzi da noi usati. Devo dire che da parte dei bambini c'è stato interesse per capire, volevano essere coinvolti con domande a noi proposte, le tipologie di pesca, la tipologia di pesce catturato, come si svolgeva, quando si svolgeva, cercavano in tutti i modi di rubarci qualche segreto da noi gelosamente custodito. E quindi, praticamente, per dare la possibilità a chi volesse praticare questi corsi, come possiamo fare? Qual è la vostra sede? Allora, la nostra sede, l'antiquarium comunale, Infopoint, è lì che... adesso è gestita dall'archeologo Francesco Adamo, perché lui la cura più di noi, noi per un motivo, per un altro, pure lavorativo, non possiamo essere sempre presenti. Comunque, il fine settimana, durante l'estate, tutte le sere, c'è l'apertura e trovate Francesco, chiunque volesse... Diamo proprio l'indirizzo, perdonami Gianfranco, dove? Allora, zona delle Gatte, la via non la ricordo, scusatemi, non me ne vogliate, però... Santa Maria di Castellabate, zona Gatte. L'estate delle Gatte, il ristorante delle Gatte, là, è così evidente, illuminato, esposto con cartelloni della nostra... C'è un insegno, quindi? Della nostra storia, sì, assolutamente. Associazione Pescatori. Assolutamente, Associazione Pescatori di Castellabate. Molto bene, grazie. Gianfranco, Danilo, disinfetta la spugna, non il microfono, altrimenti i congegni elettronici saltano. Vai. Allora, come è possibile fare trekking con te, con la tua associazione e i tuoi collaboratori? Diciamo che... Forse è spento... Ah no, è acceso? Pronto, prova, sì, ok. Allora, parto dalla fine, ci sta il sito che è www.cilentotrailtrek.it, dove noi inseriamo settimanalmente oppure mensilmente tutto il programma delle escursioni. Come dicevo prima... Adesso se vado sul sito trovo il tuo programma. Trovi tutto il calendario fino a fine luglio e in settimana verrà aggiornato quello di agosto. Bene. In più noi lo aggiorniamo sia con le uscite escursionistiche, come dicevo prima facciamo uscite sia giornalmente di mezza giornata oppure uscite di due, tre giorni in base alla richiesta, perché noi oltre a fare il calendario ci prestiamo anche alle richieste, perché se oltre alle uscite presenti nel calendario arriva qualche gruppo, poi arriva qualche persona singola che vuole fare un qualcosa di particolare, ce lo dice e noi in base a quello che lui, lei oppure loro vogliono fare, noi gli prepariamo il programma e li accompagniamo. E quindi dormite con loro. Dormiamo praticamente, noi abbiamo... Non è la stessa tenda. Possiamo ospitare fino a 12 posti, diciamo fino a 12 posti letto, con tente singole, doppie oppure tre. Fantastico. Ne abbiamo una, anche quadrupla, con tanto di letto a castello e tutto, però quella è un pochino più complicata da portare addosso. Perché calcolate che noi facciamo questa attività, la facciamo in modo particolare, da due anni la facciamo sul Tresino, e ci prestiamo a qualsiasi esigenza, diciamo noi lo chiamiamo cliente, ospite, per quanto riguarda la sua comodità. Praticamente se vuole portare la tenda, la porta sulle spalle, altrimenti noi ci organizziamo e facciamo in modo di far trovare direttamente il campo base già pronto da qualche parte. Di solito sono sempre punti panoramici oppure punti, diciamo, importanti. sul Tresino abbiamo delle numerose piazzole naturali che abbiamo lì pulito, dove piazziamo le tende e la mattina quando la persona si sveglia vede o da una parte Castellabate, con tutta la parte della costa, con il borgo puntalicosa in fondo, oppure dall'altra parte vede tutto il borgo di Agropoli, partendo da Baia di Trentova, arrivando fino, diciamo, alla costiera amalfitana, quando il Cielo è abbastanza libero. Avete studiato alla Polisportiva Santa Maria? Diciamo che a Castellabate, la fortuna vuole che a Castellabate studiamo tutti come si deve per far sì che il territorio vive. Siamo molto contenti. Senti, ma la richiesta, c'è molta richiesta? Insomma, vabbè, il Covid, lasciamo stare perché è bloccato tutto. Diciamo che nel periodo di luglio-agosto ci sta la richiesta, però in modo particolare richieste di uscite o mezza giornata o giornaliere. Noi non è che facciamo solo escursioni sulla zona del Tresino oppure sulla zona di puntalicosa, ma ci spostiamo per tutto il Cilento, facendo sia la costa, partendo da Agropoli, arrivando fino a Sapri, diciamo, più o meno ci fermiamo a zona di Scario, a Sapri non ci siamo mai arrivati, oppure andiamo nell'entroterra facendo Cervati, Alburni, Monte Gelbison, Monte Chianiello, Monte Soprano, diciamo tutte le montagne che ci stiamo. Come dicevo prima, facciamo anche degli abbinamenti, praticamente facciamo degli abbinamenti, uno per esempio di questo abbinamento lo facciamo a Trentinara, con il Cilento in volo. Praticamente l'escursionista si presenta alla partenza del Cilento in volo, parte con il Cilento in volo, non con la zip line, con proprio il volo dell'angelo, chiamiamolo così, e una volta arrivato all'arrivo noi lo prendiamo direttamente all'arrivo e lo accompagniamo di nuovo a Trentinara a piedi tramite dei sentieri, che in inverno sono i sentieri che attraversano sotto la cascata del solo frone, sicuramente ho visto anche che avete fatto dei programmi là sotto, e invece in estate facciamo più il punto panoramico, perché la cascata, essendo una cascata a livello torrentizio, diciamo che da maggio fino ad ottobre è completamente asciutta, perciò non ha senso andare sotto. Ci facciamo tutta la parte panoramica, oppure facciamo altro binomio, lo facciamo come dicevo prima con Giovanni Pisciottano, partendo con le canoe lo facciamo sia da Agropoli, sia da Castellabate con Giovanni Pisciottano da zona lago, e sia da Agropoli con Alberto, che ha le canoe sotto con praticamente kayak Agropoli, facendo visitare il turista, prima tramite il kayak, accompagnando lungo tutta quanta la costa, poi arriviamo da Agropoli, ci fermiamo a località Passane, invece da Santa Maria ci fermiamo a località Vallone, e ci facciamo un circuito di circa 3 km a piedi, facendo visitare anche la parte alta, non arriviamo proprio in Vietta, però arriviamo a mezza costa per far vedere quello che abbiamo visto da mare. Poi ritorniamo a prendere le canoe, e ce ne ritorniamo indietro. Questo lo facciamo sia di giorno, e ultimamente negli ultimi due eventi che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto anche di notte, sia con la luna piena, sia abbinato a degli eventi come la campana di San Giovanni. Io lo devo fermare, altrimenti questo ragazzo insomma, continua a raccontarci, e a darci tantissime idee, perché siete davvero straordinari. Cioè vi inventate tantissime cose interessanti poi, che piacciono sicuramente. Allora, diciamo che il mio motto è che il territorio non è mio e non è vostro, ma è nostro. Perciò se lo facciamo conoscere a tutti quanti, ci guadagniamo tutti. Io ci guadagno come escursione, l'associazione ci guadagna come cifra, per reggere l'associazione, e invece nel momento in cui io vado a fare un'escursione, ci guadagna Francesco Adamo, in questo caso mai con la sua sede, ci guadagna il bar, ci guadagna la pizzeria, ci guadagnano tutti quanti. Perciò siamo una catena. Se tutti quanti riusciamo a viaggiare con la stessa, diciamo in simbiosi, tutti possiamo andare avanti. Allora, io ho al telefono il presidente Tommaso Pellegrino. Rispondo un attimo, quindi mi perdonerete. Presidente? Sì? 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 Ti aspetto. Perdonami, ma sono in diretta, e quindi non ho potuto nemmeno mandarti la posizione prima, perché... Ancora una mezz'ora, dai ce la fai. No, 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 vieni, vieni, vieni. Sì, 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 sì. Ciao, 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 ciao. Allora, scusatemi, ma la bellezza del Castellabate Film Festival è anche questa. Io, essendo il direttore artistico, dovevo rispondere per forza al presidente che lo attendiamo qui, il presidente del Parco Tommaso Pellegrino, e che ha avuto un piccolo disguido, ma a breve sarà ancora qui. Abbiamo Cilento Sub, che ringraziamo per ora, e magari tra poco lo chiameremo sul parco. Così si accomodi un attimo, e poi dopo lo chiameremo. Allora, dicevo, Danilo, terminiamo con la citazione di nuovo del sito, il nome... Allora, il sito è www.cilentotrailtrek.it trial... Esatto, è scritto... Cilento trial track con la K finale, punto it. Benissimo, ecco, la comunicazione a volte è importante, nello specifico proprio delle lettere, delle parole. Francesco, le vostre attività... Grande Francesco, vedo che i nostri ospiti, ecco, sono organizzati alla grande. Bene, le nostre attività, attualmente, visto che comunque ci siamo formati da poco, abbiamo solo tre anni di vita, diciamo, praticamente le nostre attività ora sono prevalentemente legate ad attività escursionistiche sul territorio. Abbiamo creato tre escursioni archeologico terrestri che possono diventare pure subacuei, però fondamentalmente terrestri. Uno che riguarda proprio il Tresino è, diciamo, diciamo, stiamo cominciando a interagire pure con Danilo per delle attività comuni per quanto riguarda la visita proprio dei luoghi archeologici antichi del Tresino, di tutto il promontorio del Tresino, che è l'antica Treggenia che è di, diciamo, di epoca magno-greca che è fondato, diciamo, occupata dai primi fondatori di Poseidonia, Pestum, quindi, diciamo, un posto molto interessante anche perché sono state ritrovate pure elementi del periodo enolitico legato alla civiltà del Gaudo, sempre, diciamo, in prossimità di Pestum. Era pure il punto di arrivo della direttrice costiera che collegava Pestum con Cassella Batten che all'epoca appunto si chiamava Treggenia. Quindi, l'illustrazione in modo approfondito e appunto ben organizzato del Tresino proprio per far illustrare tramite un trekking proprio tutto il parrimonio archeologico di questo territorio. Poi, un secondo, diciamo, una seconda escursione sempre di tipo trekking si chiama Alla scoperta di Erculea in cui mostriamo le tracce che ci sono rimaste via terrestre dell'antico insediamento di epoca romana presente a San Marco. Erculea era l'antico nome di epoca romana di San Marco di Castellabate perché ci sono in varie località pure ad Agropoli c'è un altro San Marco quindi è la cosa interessante che in questa località nella località di San Marco che aveva il punto nevraldico al San Marco però occupava tutta la baia di Castellabate c'era un vero e proprio insediamento di tipo militare perché nel periodo soprattutto romano imperiale questa zona fu militarizzata fortemente e fu sfruttata a livello diciamo agricolo molto diciamo approfonditamente tant'è vero che questa zona in quel periodo era diventato l'ager pubblico romano ovvero una zona asservita a Roma perché era occupata da una popolazione che aveva tradito Roma ovvero i Lucani i Lucani nella seconda guerra punica si allearono con Annibale e quindi diciamo tradirono Roma e da quel momento in poi i Romani desidero che questo territorio e i suoi abitanti dovevano diventare schiavi di Roma e l'attestazione di tutto questo l'abbiamo proprio dai ritrovamenti della necropoli romana che fu trovata negli anni Ottanta che sono praticamente fondamentalmente sepolture di militari di schiavi liberti e qualche aristocratico proprio a far capire la vera e propria diciamo origine della della società che componeva questo territorio diciamo quindi è l'ultimo diciamo tipo di escursione che facciamo è un'escursione a me diciamo molto cara nel senso che è la visita di una cava di arrenaria che si trova diciamo lungo tutta la spiaggia della zona lago questa è chiamata è conosciuta come la cava dei rocchi e praticamente questa è una cava semisommersa in cui praticamente furono utili diciamo furono esatti i materiali per vari utilizzi per dal periodo magno greco fino ai diciamo al medioevo e l'escursione appunto che ho organizzato si chiama proprio archeologia al tramonto perché è organizzata verso il tramonto proprio verso le 6 le 7 del pomeriggio in cui la zona in cui si svolge l'escursione ha diciamo in questa zona si ha un bellissimo tramonto quindi l'escursionista può godere pure di questo tramonto eccezionale e in più scoprire pure le antiche evidenze e i segni della frequentazione dell'uomo nel periodo soprattutto magno greco e romano che sono presenti quindi il tutto è accompagnato appunto o da me o da qualche mio collaboratore che illusa proprio le zone il tutto proprio per far capire e scoprire tutte le grandi evidenze presenti nel nostro territorio molto bene Francesco allora ripetiamo sempre la sede zona delle gatte Santa Maria di Castellabate associazione pescatori e ultimamente in questo periodo è diventato pure il museo archeologico subacqueo entrata libera ingresso gratuito vi aspettiamo molto bene molto bene grazie Francesco Antonio Vuolo della Polisportiva Santa Maria e allora le attività vogliamo sapere insomma le attività che si svolgono durante non solo il campionato di serie D ma anche i campionati inferiore i ragazzi che partecipano le giovanili i pulcini io adesso non ricordo bene insomma quando ero ragazzo esistevano i pulcini sì adesso ci sono anche i primi calci i primi calci i pulcini e così via raccontaci raccontaci il quadro diciamo ok abbiamo tra l'altro anche dei tecnici della nostra attività giovanile che li salutiamo ovviamente ci hanno raggiunto qui al grazie per essere qui e li ringraziamo sì come dicevi ovviamente la prima squadra rappresenta la punta come dire di una di una pinabide che però parte dalla base dove ci sono i primi calci ovvero i bambini di 5-6 anni per poi arrivare insomma salendo con i pulcini gli esordienti i giovanissimi allievi fino alla Juniors che poi rappresenta l'anticamera della prima squadra e oggi avendo una squadra che partecipa a un campionato nazionale è ancora più importante perché anche la Juniors è nazionale quindi come dire rappresenta anche una vetrina uno sprono in più per il ragazzo che pratica l'attività sportiva per fare bene e per crescere ma di là poi come dire dell'attività prettamente sportiva c'è sicuramente l'aspetto ludico educativo che è sicuramente alla base perché lo sport è uno strumento di aggregazione potentissimo e questo è sicuramente il primo aspetto che curiamo c'è da dire che purtroppo negli ultimi due anni a causa della pandemia a causa del covid ovviamente le attività giovanili sono state ridotte all'umicino praticamente la 2020 non ce n'è stata proprio comunque insomma pochissima quest'anno fortunatamente nella parte finale quella primaverile abbiamo avuto la fortuna di poter riprendere sempre nel rispetto di determinati protocolli ovviamente della FIGC del settore giovanile e scolastico però abbiamo potuto riprendere ti parlo insomma comunque di un settore giovanile che in tempi normali in tempi prepandemici poteva annoverare sui 200 ragazzi forse anche qualcosa in più adesso insomma siamo sui 40-50 con l'augurio ovviamente di poter riprendere magari già da settembre con una campagna vaccinale sempre più intensa insomma l'augurio è quello di poter riprendere nuovamente con i numeri precedenti e questo ovviamente è possibile grazie a una grande attenzione che la società ha verso i giovani siamo Scuola Calcio Elite che è un riconoscimento assegnato voglio dire alle scuole calcio che fanno un ragionamento importante con i giovani stavo dimenticando una cosa importante quest'anno la prima squadra ha preso un premio in denaro ma al di là del premio in denaro un premio importante ancora di più per il suo valore simbolico proprio per l'utilizzo dei giovani perché la Lega Nazionale Dilettanti fa un progetto che si chiama Giovani di Valore e premia praticamente le società sportive anche con un compenso economico che utilizzano i giovani nella polisportiva Santa Maria ha concluso la stagione in questa speciale classifica al secondo posto proprio perché ha utilizzato un gran numero di giovani in prima squadra quindi anche questo è un aspetto assolutamente importante che poi si lega con una serie di attività anche sociali e ambientali proprio da qualche mese abbiamo come dire incanalato un percorso anche di sostenibilità del club dal punto di vista ambientale abbiamo cominciato a distribuire lo faremo in una maniera ancora più massiccia a settembre delle bottiglie delle borracce in alluminio ai bambini della scuola calci insieme al Lega Ambiente al Conai alle varie associazioni ambientaliste presenti sul territorio questo ovviamente per ridurre l'utilizzo della plastica quest'anno lo faremo anche insieme ai ragazzi della prima squadra che come dire consumano un bel po' di acqua e di conseguenza utilizzano tanto le borracce di plastica le bandiremo facendo in modo che possano utilizzare anche loro quelle in alluminio abbiamo avviato la raccolta differenziata anche al campo sportivo e quest'anno cercheremo di farlo in una maniera ancora più come dire forte educando non solo i nostri atleti ma anche i tifosi che ci auguriamo possano tornare sugli spalti perché quest'anno sono mancati tanto abbiamo giocato praticamente l'intero campionato a porte chiuse a parte le ultime partite per una società lo dicevamo prima che partecipa al primo anno in serie D è sicuramente una cosa brutta quindi ci auguriamo di poter recuperare quest'anno insieme ai nostri tifosi mi fermo perché potrei continuare anche io per le lunghe però mi fermo altrimenti poi infatti ti devi fermare perché devo invitare Natale De Santis dell'associazione Cilento Sub Mare Vivo Castellabate e chiedo a Francesco se possa insomma in qualche modo lasciare il posto a lui visto che insomma per utilizzare un termine calcistico facciamo un attimo una sostituzione insomma al settantesimo esce ed entra stesso settore arcologica subacquea subacquea benissimo accomodati dunque Natale Natale si devi esatto devi abituarti un po' all'idea della disinfettante per i microfoni allora tu invece ti occupi di io mi occupo di subacquea a 360 gradi l'associazione si chiama Cilento Sub Mare Vivo Cilento Sub è l'ultima che nasce nel 98 però noi andiamo negli anni vivi dove la nostra associazione si chiamava CESUB CESUB cioè deriva da CESUB non deriva perché la fondò Guido Picchetti insieme a due liomercanti quindi siamo uno dei primi allora loro l'hanno fatta mi sembra attorno tra 68 e 70 quindi uno dei primi centri subacquei in Italia e all'epoca era per pochi eh sì perché la subacquea non era alla portata di tutti come oggi tutti vogliono provare e quindi fare cioè o eri un pioniere oppure rimanevi dietro e voi dove avete la sede? allora la sede del vecchio CESUB è nata in Marina Piccola quindi proprio al centro di Santa Maria quando a Marina Piccola adesso un po' si vede c'era proprio la prodo e su delle foto vecchie si può vedere un po' tutto l'alaggio dove le barche si fermavano e quindi nasce là poi dopo man mano negli anni tutto cambia e tutto si sposta poi ognuno ha un pensiero della subacquea del modo di concepire uno sport e quindi poi ognuno ha preso una strada quindi poi ci siamo un po' diramati un po' a destra un po' a manga e come Dulcis in fondo l'ultimo dei mohicani subacquee sono io quindi non ce ne sono rimasti più dai davvero perché non c'è più la passione no non è che non c'è più la passione perché la passione è bella perché ti porta il mare perché se hai il mare dentro tu te lo porti sempre io dico sempre una cosa bellissima il mare o lo ami o lo odi non ci sono doppi mezzi o altri fini alcuni che lo facevano semplicemente a scopo di lucro purtroppo non possiamo lucrare su questo fatto perché anche perché abbiamo fatto una cosa bellissima meravigliosissima come la vogliamo chiamare Parco Nazionale del Cilento e Valle Diano ma in realtà tutto questo essere di vedere di portare non c'è perché ancora abbiamo tanti vincoli e tante cose che non ci permettono di portare tanta gente in acqua e lo chiederemo al presidente del parco allora visto che sta arrivando in realtà un parco con le reti con tante gente che pesca e tutto non ha una zona dove diciamo poter fare immersione no ma lascia stare dove poter fare immersione dove il pesce si può procreare in tranquillità come Trieste e altri parchi dove possiamo elengare 100 zone realmente protette dici zone realmente protette non ne abbiamo e quindi non avendo delle zone protette se andiamo e portiamo gente soprattutto i tedeschi che amano il mare più di noi e la salvaguardia soprattutto del mare io che gli faccio a far capire dice quelle reti che ci fanno qua quelle nanse che ci fanno quei palamidi che ci fanno dice ma questo è parco e io che cosa potrei rispondere gli devo dire solo sì certo quindi creare delle aree delle infrastrutture fatte per bene penso che sia la prima cosa per poter portare un turismo subacue ma a parte che c'è stato due anni diciamo questa pandemia che diciamo ci ha un po' distrutti però ci vuole dalla parte proprio dell'ente gestore una riqualificazione senti però al di là di questo scusami la sede dove si trova non me l'hai detto più in Santa Maria di Castellabate via Roma 3 benissimo c'è un sito internet i visitatori insomma possono www.ascilendosub .com oppure c'è la pagina scilendosubnew su facebook avete ripreso le attività attualmente sì attualmente abbiamo cominciato a riprendere le attività anche un po' con le condizioni mete un po' avverse di quest'anno però siamo in attività noi siamo in attività veramente a 360 giorni 365 giorni l'anno ci fermiamo un poco quando non possiamo andare a mare però se il tempo permettesse anzi permette proprio fino a dicembre che abbiamo il tempo bello però diciamo che quando l'estate finisce a ottobre da noi che si potrebbe ancora continuare l'estate comunque è tutto chiuso non c'è niente da fare quindi mancano le strutture aperte manca un po' di cose ecco questo è il discorso che si deve fare se si vuole fare turismo è vero Antonio questa è un'altra nota dolente finisce l'estate la stagione estiva insomma e poi si ferma un po' Gianfranco guarda forse adesso è leggermente migliorata la situazione ma sotto un certo punto di vista ma ricordo addirittura le primi mesi successivi al boom del film Benvenuti al Sud quando insomma davvero arrivavano persone in ogni momento dell'anno pure a novembre a dicembre però praticamente chi arrivava a novembre a dicembre a gennaio era costretto a scappare via se voleva fare un aperitivo al bar o trovare un ristorante aperto perché c'era la problematica magari se non era il sabato di trovare di trovare tutto chiuso sì volevi aggiungere qualcosa perché adesso vorrei fare il discorso non è che voglio aggiungere qualcosa allora per fare turismo ci vuole gente che sa fare turismo perché fare turismo giusto per stare aperto l'uglio di agosto lo sanno fare tutti nel momento boom quando tu ti butti nella mischia se sai ballare balli o non balli sei nella mischia ma se la mischia si toglie e non sai ballare si vede è chiarissimo e quindi questo volevo fare interagire un attimo Raffaele Pio Marrone chiedo a Edoardo si esatto Edoardo puoi recuperare il microfono adesso abbiamo non la hostess ma il modello devi sanificarlo Edoardo prendi pure il sanificatore finalmente è arrivato un aiuto qui al Castellabate Film Festival i nostri giovani hanno fatto un po' di ritardo vabbè sono all'inizio anche loro devono imparare pian pianino grazie Edoardo Raffaele puoi rimanere lì tanto c'è la telecamera che ti inquadra ok perfettamente volevo porre una domanda a Francesco ok Francesco ritorna sul palco e chiedo magari a Gianfranco esatto di lasciare il posto a Francesco come si ok vabbè Gianfranco fate tutto voi ragazzi datemi una mano perché ripeto non ho eccoci qua allora il microfono allora lo sanifichiamo Edoardo che bello tutto informale a me così piace oh no signora tutto bene buonasera benvenuta prima non c'era in platea me ne sono accorto adesso però adesso sei più alto di me non è giusto no sto scherzando Francesco vai Raffaele allora ne parlavamo anche poc'anzi riguardo all'archeologia tra l'altro c'è stato anche un bellissimo accenno alla storia romana per quanto concerne la seconda guerra punica Annivale sì e volevo porre una domanda un po' anche personale se vogliamo per quanto concerne proprio insomma i trovamenti che ci sono stati qui a Castellabate sì e diciamo delle scoperte che sono rinvenute qui in questo territorio qual è quella che l'ha maggiormente colpita personalmente va bene diciamo a livello appunto accademico come relativa all'archeologia subacua del territorio il ritrovamento più importante fatto a Castellabate è stato proprio il ritrovamento del famoso relitto di Punta Licosa i cui reperti il cui carico eppure è esposto nell'antiquarium del castello e quello diciamo è stato un momento di svolta molto interessante proprio perché si comincia a capire quali erano appunto i traffici marittimi che c'erano in quel periodo però diciamo oltre a questo nella zona appunto ci sono pure molte altre evidenze in questo territorio appunto si sa il porto romano diciamo è sbagliato dire greco romano perché è un porto romano anche se comunque è di origine romana greca in quanto i greci ormeggiavano sul fondo della baia ora conosciuta la baia dell'approdo andavano a tirare a secco le imbarcazioni però la struttura che troviamo la struttura rimuratura che troviamo è di origine romana e quello rappresenta il lato della zona militare appunto del porto del basino militare ed è un'ulteriore testimonianza di come in questo territorio in epoca romano imperiale fosse una zona militarizzata proprio sempre in legame a quel famoso tradimento che avevano fatto i lucani nella seconda guerra punica insomma e tutto si unisse anche se però io la mia zona in cui diciamo tengo nel cuore appunto quindi che mi ha colpito particolarmente soprattutto è stata proprio la parte della cava dei rocchi del diciamo che si trova sulla spiaggia di lago che è un sito semisommerso quindi le quei tratti si possono trovare sia in diciamo lungo la costa sia diciamo in acqua anche se la profondità non è abissale stiamo intorno massimo massimo ai 6 metri quindi non è però appunto è interessante proprio perché si può vedere come è cambiato il territorio dal periodo greco romano ai giorni nostri insomma quindi e un'altra se possibile assolutamente c'è un archeologo insomma un personale che qui prende spunto come punto di riferimento e se si qual è l'archeologo che diciamo a cui io sono legato e sono diciamo prendo riferimento appunto è il professor Sebastiano Tusa che diciamo sovrintendente della sovrintendenza del mare della della Sicilia che diciamo oltre a essere stato appunto pure il mio relatore della tesi proprio che ha voluto pure patrosinare lo studio della proprio dello studio della Cava dei Rocchi che grazie a lui è diventato proprio argomento di tesi quindi un testo riconosciuto a livello accademico e diciamo era pure un grande archeologo su Baco era perché qualche anno fa purtroppo per un incidente aereo sui voli dell'Etiopia è venuto a mancare quindi comunque era uno molto interessato molto coinvolto anche era pure molto coinvolto ad approfondire diciamo l'argomento archeologico su Baco proprio a Castellabate purtroppo diciamo ed era lui il mio punto di riferimento esatto perfetto grazie Raffaele fermiamoci un attimo Danilo Palmieri prima ha citato Giovanni Pisciottano Edoardo sanifica tutto ok e ti porta stesso ok circolo nautico punta Tresino Giovanni Pisciottano il presidente che saluto da questa emittente da questo palco perché grazie a lui insomma non solo ho ospite Danilo e mi ha parlato di questa anche iniziativa di rete che hanno attivato e quindi a te ti tocca insomma parlare di questa iniziativa anche ad Antonio Vuolo perché si occupa della comunicazione del circolo nautico puntatresino che da tanto tempo eh realizzano attività sportive nelle acque bellissime del nostro le ultime sono terminate ieri infatti sto ricevendo i tuoi comunicati stampa bellissimo allora eh chi mi racconta eh il circolo nautico puntatresino forse lo racconta Antonio e tu mi racconti la rete delle attività allora conosciamolo così magari Giovanni ci segue attraverso Facebook anzi ne approfitto per salutare ehm anche i miei collaboratori in regia Andre Giaccio Gerry Giaccio e Daniele Romualdi nonché Benedetta Petrizzo che si stanno occupando anche della comunicazione eh social che è molto importante e Giovanni sicuramente ci sta seguendo ci starà seguendo raccontiamo bene questa sua realtà altrimenti poi ti richiama Antonio eh giusto 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 parliamo di un'associazione che poi è cresciuta con il tempo negli anni ed è diventato infatti poi un circolo nautico punta tresino con attività a 360 gradi ovviamente finalizzate alla valorizzazione e alla tutela del mare un'attività che ieri ha portato qui la la palla a nuoto abbiamo avuto una bella manifestazione tra l'altro è stato ricordato anche un giornalista sportivo napoletano Rosario Mazzitelli che nei mesi scorsi è morto a causa del del covid era un amico eravamo eravamo molto legati ma era anche un amico della dell'associazione e della Cilento lui è stato colui che ha portato un torneo di palla a nuoto internazionale qui a Castellabate ad Agropoli a Casalvelino a Ciaroli insomma per gli amanti di questo sport sono arrivati i campioni della del circolo canottieri Napoli squadre dalla Germania dalla dalla Croazia Verona Brescia quindi ha contribuito attraverso questa iniziativa a a valorizzare anche la il nostro il nostro territorio tornando all'associazione l'associazione nasce con le gare di nuoto a mare anche questo un settore dove praticamente si è cominciati con le gare provinciali magari con ragazzi di ogni età provenienti da ogni angolo della provincia per arrivare poi ad ospitare qualche anno fa la Coppa Lenna parliamo dell'evento top del nuoto a mare campionati italiani assoluti di nuoto in in acque libere che hanno visto la partecipazione di atleti che poi hanno partecipato e vinto medaglie alle olimpiedi domenica c'era in acqua per farti un esempio una rappresentanza di atleti argentini e tra questi c'era Plit che in Argentina è un po' come il Maradona del calcio è uno che ha vinto quattro volte anche la Capri Napoli ha partecipato quindici volte alla Capri Napoli quindi con tutte queste attività hanno come dire contribuito a promuovere il territorio e poi attraverso le escursioni che fanno in mare in canoa e kayak insomma contribuiscono anche alla pulizia della costa poi l'evento gastronomico anche se fermo da due anni legato alla festa della Paranza con il padello con la padella gigante che arrivava da Camogli con cui c'era c'era un gemellaggio insomma quindi valorizzazione anche enogastronomica assolutamente che come dire anche quella fa bene perché poi parliamo di un indotto che fino a quando è stato possibile muoveva nel giro di tre giorni tra le 10 e le 15 mila persone dalla campagna e non solo quindi parliamo anche in questo caso di numeri importanti molto bene allora prima di passare a Danilo io voglio salutare il presidente dell'ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni Tommaso Pellegrino buonasera presidente tra breve la inviterò sul palco per parlare e analizzare questa bellissima realtà del territorio e infatti Danilo questa bellissima realtà di rete che avete creato tra una serie di associazioni raccontaci brevemente di cosa si tratta perché secondo me è l'obiettivo anche futuro di tante altre associazioni che magari potranno poi alla fine sfruttare queste occasioni soprattutto per il recovery found eccetera eccetera vai diciamo che con il circo nautico di Punta Tresino con Giovanni di Giovanni Pisciottano abbiamo messo in campo 3-4 eventi legati all'escursionismo e al mare insieme uno di questi eventi è stato quello che abbiamo fatto il 24 di giugno festa di San Giovanni per quanto riguarda il suono della campana di San Giovanni praticamente c'è un aneddoto che si diciamo una leggenda che si dice che chi una volta fu rubata la campana della chiesa di San Giovanni a Tresino e chi l'aveva rubata nello scappare tramite il mare con la barca aveva scaricato tutto a mare solo la campana era rimasta sulla barca però la barca essendoci un temporale non riusciva ad andare a largo buttarono questa campana a mare e buttando la campana a mare praticamente la barca riuscì ad andare avanti ed allora si racconta che al centro tra Punta Pagliarola e Punta Tresino ci sta una fossa chiamata la fossa di San Giovanni e si racconta che al 24 di giugno a mezzanotte chi si sofferma chi va ad osservare diciamo questa fossa dal Monte Tresino può sentire tre tintini della campana in quell'occasione praticamente con Giovanni Pisciottana abbiamo deciso di ricreare questa leggenda che cosa abbiamo fatto siamo partiti con le canoe da zona lago dove è la sede del circolo nautico e eravamo circa 18 canoe in totale eravamo circa 28 persone e siamo andati verso il vallone di Tresino a metà proprio dove era la fossa tutte le diciamo le canoe si sono raggruppate in un punto mentre io e altri due ragazzi con una canoe un pochino più grande siamo andati un pochino a largo Giovanni insieme a tutti e a tutte le altre canoe e a tutte le altre persone ha raccontato la storia alla fine della storia a largo si è sentito il rintintino delle campane praticamente abbiamo ricostruito quella storia quante canoe eravate? eravamo 18 canoe per un totale di 28 persone tra canoe doppie singole e triple poi l'altro evento invece l'abbiamo fatto un paio di settimane fa illuminando diciamo i due simboli del monte Tresino praticamente torre Pagliarola da una parte e torre Tresino dall'altra le abbiamo illuminate ed è stata forse l'unica volta in io ho 35 anni che mi ricordo l'unica volta che sono state illuminate praticamente le abbiamo illuminate con dei pannelli con dei fari enormi che nel momento in cui si faceva buio queste torre si illuminavano siamo partiti sempre da zona lago e la prima sosta l'abbiamo fatta nei pressi della torre Pagliarola abbiamo raccontato la storia di Torre Pagliarola e poi siamo ripartiti verso la torre Tresino e vi posso assicurare che da sotto proprio dal mare eravamo 12 canoe dal mare si vedeva questa torre illuminata proprio quasi dal centro con questo faro che tirava in alto poi abbiamo fatto la sosta diciamo per far conoscere anche l'aspetto gastronomico del Cilento con acqua sale salumi e altre cose varie direttamente all'ovvario del Vallone per poi rientrare invece l'altra diciamo le altre due manifestazioni che sono una è dopo domani sera l'altra invece la facciamo il 20 di agosto cioè le altre due sono altre tre praticamente manifestazioni due dedicate alla pesca della paranza e una invece dedicata all'uscita in canoa sotto le stelle praticamente le due uscite in paranza tra cui la prima e quella dopo domani usciremo verso le 6 il pomeriggio per andare incontro ad una nave da pesca chiamata paranza prenderemo il pescato un po' pescato del giorno che loro hanno hanno preso in quella giornata per ritornare poi con le canoa e consumarlo direttamente sulla spiaggia di zona lago questa la facciamo dopo domani e poi la riproponiamo il 20 di agosto ma quante associazioni siete a fare tutto questo? diciamo tutto questo siamo diciamo sono io come guida ambientale escursionistica l'associazione mia Cilento Trail Track più l'associazione di Giovanni Piscottano Circo Nautico Punta Tresino e le altre invece che vi hanno seguito in questa associazione di rete quali sono? diciamo che sono un pochino i pescatori perché comunque andiamo incontro ad un peschereccio ci affidiamo al Circo Nautilus diciamo queste per ora sono queste le realtà con cui cerchiamo di collaborare legate diciamo che tutto questo è anche grazie al Comune di Castellabate in modo particolare ad Assunta Nicchio in più abbiamo anche il circolo nautico diciamo la vela di Antonio Ciardi di Santa Maria con cui Giovanni Piscottano e Antonio Ciardi hanno stretto questo protocollo d'intesa per far sì che i ragazzi conoscono oltre conoscono il mare diciamo quasi a 360 gradi tramite le canoe tramite la vela di Antonio Ciardi molto bene allora siccome hai parlato tanto adesso ti invito ad alzarti scendere sanificare il microfono e passare il microfono al nostro presidente Tommaso Pellegrino che ospitiamo davvero con grande gioia finalmente è venuto a tro... no no rimani rimani in francese tanto c'è c'è il posto per il presidente buonasera presidente ben trovato grande allora hai visto quante belle realtà associative del territorio che si occupano di mare di sport ambiente insomma che cosa vogliamo dire? io innanzitutto non avevo dubbi sapendo conoscendo gli organizzatori e conoscendo la sensibilità su questo tema su questi temi dell'organizzatore ero certo che il coinvolgimento di tutte le realtà migliori ci sarebbe stato quindi su questo non c'erano dubbi d'altro l'altro innanzitutto complimenti per questo bel momento questa bella iniziativa poi Castellabate chiaramente ha un significato particolare parlare di cinema a Castellabate significa ovviamente ricordo di tutti quanti noi va a Benvenuti a Sud ma va soprattutto appunto al cinema con la C maiuscola quindi mi fa piacere che questa manifestazione che sta crescendo sempre di più e che chiaramente si pone degli obiettivi giustamente mi avviso ambiziosi possa rappresentare e perché no diventare sempre più un film festival nazionale perché proprio Castellabate oggi può parlare di cinema può parlare e sappiamo soprattutto il valore che il cinema oggi dà alla valorizzazione dei territori lo abbiamo vissuto lo abbiamo vissuto proprio qui a Castellabate io penso che possa essere veramente una grande opportunità oggi promuovere il cinema qui ma soprattutto promuovere anche abbiamo dei panorami stupendi abbiamo paesaggi straordinari abbiamo una ricchezza da tutti i punti di vista dal borgo al mare e a tutto quello che oggi vogliamo io penso che Castellabate e il Parco Nazionale del Cilento Valle del Nalburni sono la naturale vetrina per fare qualsiasi tipo di film nessun film ci è precluso poi ci sono i rappresentanti dei pescatori che possono contribuire a tutta la cinematografia italiana quindi veramente qui abbiamo molto molto da promuovere e il cinema per noi rappresenta anche un bel volano di promozione allora abbiamo soltanto sette minuti prima di chiudere perché poi alle 21 ci saranno le proiezioni dei primi cortometraggi in concorso nazionali e internazionali ieri sera abbiamo avuto i cortometraggi dell'IC Castellabate e mi faceva piacere insomma una riflessione presidente sull'idea di fare rete perché questi ragazzi anche con la polisportiva Santa Maria insomma con l'associazione Sub Marevivo e insomma anche altre associazioni che questa sera non sono presenti però sempre attraverso Assunta Niglio che si occupa ultimamente in un ufficio preposto giusto Assunta ecco dicevo stanno creando una rete molto interessante anche per il futuro da utilizzare quando arriveranno poi i fondi per poter respirare un po' di più soprattutto dopo la pandemia cosa ne pensi e qual è il consiglio che possiamo dare loro in questo percorso insomma da seguire soprattutto perché oltre a essere presidente del parco tu sei anche consigliere regionale quindi regione Campania ma il consiglio è esattamente quello che dicevi tu Gianni il fare rete fare sinergia qui avete appunto parlare prima dello sport del calcio Santa Maria la squadra della polisportiva qui di Castellabate quella quale abbiamo già con Antonio abbiamo fatto dei momenti di incontro delle iniziative che rappresentano anche lì dei momenti di promozione molto importanti perché oggi vedo ci sono tutti i rappresentanti della polisportiva Santa Maria cioè la cosa più bella è che attraverso lo sport noi aggreghiamo i giovani loro fanno un lavoro straordinario di coinvolgimento dei nostri ragazzi dell'invogliarli a fare sport sport è non soltanto un qualcosa di salutare e di sano ma è un qualcosa anche che fa liberare quelle endorfine dentro ognuno di noi e quindi ci fa stare meglio ci fa stare meglio anche psicologicamente ci fa stare meglio ecco perché iniziare fin da giovani da bambini a far liberare queste endorfine li abituiamo a un po' di felicità li abituiamo a un po' di cose belle e piacevole quindi io non finirò mai di ringraziare la polisportiva Santa Maria e tutti coloro che aggregano i ragazzi in modo particolare i giovani attraverso lo sport perché proprio qui a Castellabate noi abbiamo fatto un'iniziativa quest'anno dedicata allo sport col premio giornalistico Orchide d'Argendo l'abbiamo dedicata allo sport per lanciare questo messaggio questo segnale che è molto forte poi fare sinergia con quelle associazioni virtuose chiaramente abbiamo un mare straordinario e non ci poteva essere un'organizzazione che facesse conoscere il mare attraverso i sub quindi in modo subacqueo e loro lo fanno anche con grande professionalità quindi fare rete tra tutte quelle realtà virtuose dei territori superate anche gli steccati ideologici e a volte noi siamo viviamo in un territorio dove siamo bravi a essere solisti a volte dialoghiamo con difficoltà con gli altri invece io penso che è arrivato il momento di capire che dobbiamo mettere da parte gli egoismi dobbiamo ragionare insieme dobbiamo fare squadra ecco come si fa col calcio e la nostra nazionale ha dimostrato che facendo squadra facendo gruppo si vince anche se magari qualcuno aveva dei dubbi noi abbiamo vinto un europeo perché la nostra è la squadra più unita la squadra più compatta la squadra che giocava con grande sintonia con grande sinergia dove non c'erano egoismi ma si cercava di ognuno a servizio degli altri tutti insieme a fare squadra ecco il nostro territorio il Cilento il Vallo di Diano gli Alburni deve abituarsi a fare questo ragionamento fare squadra perché altrimenti noi abbiamo la fortuna a sud di Salerno di rappresentare quasi il 50% del territorio facciamo squadra noi chi lo deve fare facendo squadra abbiamo la più forza anche nel chiedere opportunità nel chiedere risorse nel chiedere progettualità io penso che per anni per anni magari conveniva avere un territorio a sud di Salerno diviso e oggi penso che invece dimostriamo e riprendiamoci gli anni che ci hanno tolto quindi facciamo rete facciamo squadra facciamo sinergia e abbiamo tante individualità di altissimo livello tante associazioni tante realtà di 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 veramente di grande livello che fanno delle cose virtuose noi oggi queste cose virtuose le dobbiamo mettere in comune e fare una rete di eccellenza una rete di eccellenze una rete di di persone che amano il proprio territorio e tu le racconti molto bene grazie grazie Tommaso prima ho raccolto un'istanza dal territorio soprattutto da Cilento Sub insomma una migliore e una maggiore attenzione soprattutto per il mare perché sembra che manchino insomma degli spazi ecco parliamo di area marina protetta tu hai gestito il parco molto bene e naturalmente ti sei dedicato a tantissime realtà del parco perché è immenso insomma è uno dei parchi più grandi d'Europa lo diciamo sempre come possiamo poi adesso andrai pure via insomma quindi mi auguro che rimarrai ancora di più come possiamo fare per dare maggiore importanza a queste persone che chiedono magari un regolamento che si rispetti di più uno spazio maggiore come possiamo fare? io penso che in questi anni abbiamo fatto molto per le aree marine protette penso che le aree marine protette oggi rappresentano sicuramente un momento di grande importanza d'altra parte io voglio dire se non ci fossero state le aree marine protette probabilmente molta di quella qualità e molti di quei premi che oggi noi abbiamo e ritiriamo come mare probabilmente non oggi non ne parlavamo ecco quindi diciamo che noi guardiamo anche gli aspetti positivi di un'area marine protetta certo ci sono delle difficoltà certo ci sono delle cose a migliorare certo noi viviamo in Italia viviamo nel paese più burocratizzato del mondo il paese più burocratizzato del mondo quando parliamo di mare e fiumi devi moltiplicare quella burocrazia per 10% anche noi molte volte siamo vittime di quella burocrazia quante volte con Assunta con tutti gli amici pescatori abbiamo fatto delle battaglie per cercare di fare delle cose che a noi sembravano di buon senso e che invece dalle norme europee molte volte dalle norme europee ci venivano impedite e non le riuscivamo a fare e noi abbiamo assumendoci anche le responsabilità Assunta lo sa assumendoci delle responsabilità a volte abbiamo rotto anche delle situazioni abbiamo cambiato delle situazioni che ci sembravano oggettivamente difficili io penso che certo ripeto c'è tanto da fare io penso che gli operatori gli operatori del mare noi dobbiamo aiutarli non sono gli avversari dell'area marina protetta sono i primi amici dell'area marina protetta sono le persone che hanno a cuore di più probabilmente anche il mare e la tutela del nostro mare è ovvio poi ci scondriamo con quei regolamenti ma ripeto noi dobbiamo intraprendere quei percorsi che laddove ci sono delle criticità piuttosto di dire non va bene nulla dire quali sono le cose che non vanno bene quali sono le cose che possiamo cambiare quali sono le cose sulle quali ci vogliamo impegnare e portiamo avanti dei percorsi io penso che il parco oggi fa questo guardate il parco non è la controparte il parco insieme a voi è la parte che rappresenta la voce del territorio rappresenta la voce di un'area protetta rappresenta la voce degli operatori che vivono con il mare e che promuovono il nostro mare attraverso una serie di attività guardate io quando si parla io ho un profondo rispetto di chi fa il lavoro che fa l'associazione Scilento Sub ho un profondo rispetto perché loro fanno vivere anche il mare a quegli appassionati di attività subacue e quindi figuriamoci se non sta a cuore a loro la pulizia del nostro mare poi se ci sono delle problematiche delle criticità ripeto rappresentiamole discutiamole ma cerchiamo di rappresentarle al ministero adesso della transizione ecologica per cercare di modificare anche quei regolamenti che creano delle difficoltà perché laddove ci sono delle difficoltà laddove soprattutto e faccio un principio Gianni laddove ci sono delle situazioni che non vanno ad alterare la qualità del nostro patrimonio ma perché non realizzarle in principio è questo è semplice è così la linea di confine è rappresentata dalla tutela e dalla valorizzazione quella è la linea di confine verissimo Natale hai giusto dieci secondi io sono in chiusura mi dispiace perché è un argomento io mi associo a tutto quello che ha detto Pellegrino però con lo sport lo sport è una realtà bellissima noi abbiamo anche il salvataggio io faccio anche il salvataggio in mare quindi corsi di formazione in bagnini e tu pensa che questa è una realtà dove vengono a mancare queste persone quindi anche incrementare con le nostre associazioni questa partecipazione alla gente ai sorveglianti sul mare che danno diciamo al territorio una sicurezza maggiore oltre alla subacqua quella che abbiamo parlato quindi nella subacqua io ho lo scopo di gestirla però se ci uniamo ancora di più e cerchiamo di farla in modo migliore noi avremo un risultato migliore per tutti Natale ha posto una questione di grandissima importanza che mi fa piacere che lo abbia detto il tema della formazione di avere persone qualificate a fare determinate cose perché diventa anche un'opportunità è il grande tema Natale io ho sempre detto noi viviamo nella regione qui adesso mi spoglio dai panni del Presidente del Parco e parlo da consigliere regionale io ho sempre detto noi viviamo nella regione dove abbiamo speso più soldi in formazione senza formare niente allora è arrivato anche il momento di pianificare e programmare su questo tema sul mare sugli operatori del mare dove c'è bisogno di formazione io penso che come regione oggi possiamo avviare una pianificazione una programmazione che mette in campo un'azione di formazione per quelle figure alle quali tu facevi riferimento che possono essere utili non soltanto alla valorizzazione del nostro mare perché molte volte per il turismo quando noi parliamo di turismo nei nostri territori quello che manca a volte è proprio quello è la formazione e i servizi legati anche alla formazione perché il turista che viene qui vuole qualità vuole persone preparate vuole risposte da chi oggi fa determinate cose ecco e questo lo dobbiamo fare insistere chiedere alla regione ci dovete chiedere investimenti sulla formazione per gli operatori del mare per gli operatori che oggi devono anche controllare come giustamente dicevi tu e fare servizi e attività legate al mare su questo posso assumere anche l'impegno insieme a voi di realizzare mari possiamo chiederlo all'assessore la formazione nella pianificazione nella programmazione della formazione chiedere di inserire alcune figure riguardanti gli operatori del mare cioè Assunto magari che può fare un po' anche da questo punto di vista facciamo questo tipo di lavoro perché può essere utile per i nostri giovani per il turismo e chiaramente per il nostro mare benissimo Natale perdonami ma io devo chiudere però ci sarà occasione per discutere sempre col presidente attraverso un rassunto anuglio purtroppo ho i tempi del programma del festival e quindi ci sarà occasione sicuramente poi il presidente è sempre molto disponibile io devo chiudere perché devo premiarti vieni pure con il trofeo è una sorpresona infatti ho detto Tommaso vienimi a trovare ma non gli ho detto vienimi a trovare perché devo premiarti d'altronde tu ricevi il primo il primo gran trofeo emozionare mi piacciono le sorprese Tommaso davvero e questo è il premio che diamo agli autori internazionali e nazionali che vinceranno appunto il festival e ci tenevo soprattutto dare il primo vero premio a Tommaso perché a parte che è un amico davvero è una persona su cui davvero ci si può fidare ci si può affidare e quindi complimenti Tommaso e chiudiamo qui grazie grazie a te Gianni veramente mi hai emozionato perché non soltanto per il premio per il valore del premio ma soprattutto perché un premio conferito da te da una persona che stimo voglio bene che in questi anni ho avuto la fortuna di conoscere ma soprattutto ho avuto la fortuna di avere professionisti giornalisti come te che amano il territorio e che hanno promosso le tante cose belle giornalisti bravi sono anche quelli capaci di promuovere le cose più belle che si realizzano sui territori e tu sei stato sicuramente tra i massimi interpreti e lo continuerei a essere ovviamente di questa bella promozione della promozione sana grazie quindi per me veramente ha un valore doppio questo premio proprio perché è consegnato e pensato da te grazie grazie allora voglio chiudere ci accomodiamo così saluto anche i nostri ospiti e dunque l'associazione la polisportiva Santa Maria rappresentata da Antonio Vuolo grazie Antonio un applauso ad Antonio ai ragazzi della polisportiva con una rappresentanza anche qui che è venuta a trovarci poi i pescatori di Castellabate con Gianfranco di Luccia grazie Gianfranco Cilento Sub Marevivo Natale De Santis grazie Natale Cilento Trial Danilo Palmieri grazie Danilo e poi Giovanni Pisciottano che non è stato presente qui ma comunque ci ha seguito col circolo nautico Punta Tresino e Francesco Francesco De Santi chiedo scusa Adamo che ho conosciuto stasera Archeonautilus assolutamente interessante la sua iniziativa ringrazio i miei collaboratori Raffaele Pio Marrone Edoardo Andre Giaccio in regia Benedetta Petrizzo all'accoglienza Gerry Giaccio Daniele Romualdi alle riprese e a tutto lo staff del festival vi invito domani sera che ci sarà davvero una seriata stupenda nel talk show ospiteremo il concerto bandistico Santa Cecilia di Castellabate che eseguirà musiche da film e poi alle ore alle ore 21 come stasera proiezioni di film la mattina invece attività per bambini mattina e pomeriggio grazie a tutti per averci seguito ciao a domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti